La saga di Walt Disney è una saga molto particolare. Pensate che in tutti i personaggi dei suoi fumetti, dei suoi cartoons, non c'è mai un padre e una madre. Ci sono gli zii, i nipoti, gli amici, i fidanzati. Minnie e Topolino sono fidanzati ma non si sposano mai, Paperino e Paperina anche. Hanno uno zio Paperone, Paperino vive con tre nipotini che non sono figli suoi. Non esiste la famiglia nel mondo di Walt Disney e già questo è una particolarità, soprattutto se pensiamo che stiamo parlando degli anni 30. In questo mondo si inserisce Paperino che è una particolarità nella particolarità. Perché negli anni 30, non solo in Italia dove c'era Mussolini e il culto della virilità e della forza, ma in tutto il mondo gli eroi erano personaggi che vincevano. Erano personaggi forti, erano personaggi belli, erano personaggi intelligenti e anche fortunati. Paperino è l'antieroe per eccellenza. È sfortunato, è un incapace, è un lazzarone, gli piace dormire, gli piace mangiare. Ha uno zio che lo tartassa continuamente perché è ingombrante, lui non sa fare nulla. Eppure Paperino conquista piano piano il cuore di tutti noi. Noi ci sentiamo molto più vicini a Paperino che non all'antipatico Gastone che vince sempre, che è fortunato, che ha successo con le donne. Paperino è in fondo il perdente che vive in ciascuno di noi e ci ha abituati a guardare a questo perdente con simpatia, con pietà, con misericordia e a volergli bene. Per questo io credo che ancora oggi la stragrande maggioranza di noi che siamo cresciuti con quei fumetti preferisce Paperino a Topolino. Perché Topolino è tutto sommato un vincente e noi vogliamo più bene a uno che invece nella vita molto spesso non ce la fa.